Noi ci basiamo sui dati statistici per creare trend, capire i trend di mercato e capire dove strategicamente investire e portare la nostra azienda. Ormai le fonti sono numerosissime, cerchiamo di capire i trend del mercato, i trend del cartone ondulato facendo packaging, capire se ci sono novità del settore, cerchiamo di vedere all'internazionalizzazione cosa fanno gli altri paesi, come si sono evoluti nel nostro campo, quindi che numeri hanno a confronto ai nostri per capire dove sta andando il mercato. Adesso il trend è quello di guardare alla sostenibilità delle aziende, guardare alla sostenibilità dei prodotti, all'economia circolare e quindi siamo coscienti di questo trend, di questa richiesta della clientela e quindi del nostro mercato. La difficoltà non è tanto trovare i dati quanto a qualificarli, quindi a capire quanto sono veritieri e quali fonti sono le più importanti da seguire.